Mentre si riducono i giorni che separano dalla serata clou del premio barocco previsto per il 6 giugno prossimo nel suggestivo scenario del Castello Angioino di Gallipoli, scopriamo altre personalità che riceveranno il premio. L'ambita galatea andrà tra gli altri ad Antonio Conte, il leccese CT della Nazionale Italiana, grintoso centrocampista che si è formato nel settore giovanile del Lecce e che ha legato la sua carriera da professionista alla Juventus e ad oggi CT della Nazionale Italiana. E ancora premio barocco per l'impresa Pierluigi Celli, imprenditore, dirigente d'azienda, saggista e scrittore italiano, responsabile della gestione, dell'organizzazione e della formazione delle risorse umane in grandi gruppi quali Eni, Rai, Omnitel, Olivetti ed Enel. Per il giornalismo premio barocco a Gianni Minà, giornalista e scrittore. Sua è la firma di un'opera affascinante dal titolo Il mio Ali, dedicato al leggendario Cassius Clay Mohamed Ali, edito da Rizzoli. Il suo lavoro tra l'altro sarà presentato nella serata del 5 giugno alle 19.30 al Teatro Garibaldi di Gallipoli. La conduzione del Gran Galà è affidata, come sappiamo, a Michele Cucuzza. Intervisteranno i premiati Attilio Romita, direttore di Rai 3, e Gianluigi Nuzzi, conduttore di quarto grado. Il parterre del premio barocco si arricchisce dunque sempre più di talenti. Tra i premiati di questa prestigiosa trovata del patron Fernando Carteni, che quest'anno spegne 46 candeline, anche la cantante Bianca Azei, amatissima dal grande pubblico. Dalla musica al teatro, quello comico, con due volti noti del piccolo schermo, della scuderia Mediaset. Marta e Gianluca, ospiti dell'ultimo festival di Sanremo e che provengono dal grande palco di Zey League. Insomma, c'è da scommetterci, sarà ancora una volta un'edizione da ricordare.